eccolo qua rivelatore di pressione ma non vuoi che dovremmo eccolo qua eccolo qua rivelatore di pressione vediamo come funziona meschio attendiamo la vabbè è già installata questa è la pubblicità di pressione si è messa davanti una pubblicità un'altra volta maschio diciamo si è messa davanti eccolo qua vabbè rivelatore delle forze tossine non so quanto sia originale non credo che c'è un 91 di pressione così bassa stamattina ma riproviamo ma 107 ma 107 riproviamo 521 vabbè non so fino a quando è veritiero comunque il programma si chiama vabbè Non è vero, non è vero, non è vero.